È chiaro che la crisi sta colpendo anche quello che è un po' il nostro sistema, che come si sa è un sistema universalistico, quindi di per sé è aperto a tutti. In realtà poi fra ticket, fra liste d'attesa, eccetera, di fronte a un problema economico in famiglia, una delle questioni che viene purtroppo considerato, beh, questo non lo faccio, è proprio un esame, una visita, perché non ho i soldi per sostenere. La crisi taglia anche la salute, soprattutto quella degli anziani, i più esposti sia alle malattie legate all'età, ma anche al valore sempre più basso delle pensioni. L'Istat ha individuato con statistiche, eccetera, molto affidabili, che questo riguarda l'11% della popolazione italiana. Accanto alla crisi poi c'è anche la difficoltà di accesso alle visite, che per la terza età molte volte significa farsi accompagnare al pronto soccorso. L'accessibilità avviene soprattutto a quelli che vanno al pronto soccorso, che fanno i codici bianchi, avviene di sera al pomeriggio, quando i figli arrivano a casa, perché i mari d'anziani non riescono a farlo. La soluzione sarebbe la sanità a chilometro zero, ovvero ambulatori meglio attrezzati da gruppi di medici di base. Un obiettivo che sulla carta dovrebbe già essere operativo, con la firma tra regione e medici di famiglia, ma che in realtà è ancora a macchia di leopardo. Un costo per la comunità, oltre che un limite per la medicina d'urgenza, da utilizzare per casi ben più gravi. Una situazione non più sostenibile anche secondo i pensionati degli artigiani, pronti a sollecitare i 95 sindaci della marca per giungere ad almeno un poliambulatorio per comune. Se hanno in prossimità, vicino, una medicina integrata di gruppo, che è aperta 12 ore al giorno, hanno la possibilità di poter accedere, facilmente poterci andare a casa sola e non dover andare in tasare per forza i pronti soccorsi che purtroppo hanno tempi lunghissimi e con tutti i disagi che ne comportano.